Ieri c'è stato un problema in Consiglio Comunale, le opposizioni l'hanno duramente attaccata per la sua assenza in aula, nonostante il vice sindaco... Ho avuto un imprevisto urgente. No, ma verrà ripresa la discussione? E come no? Certo. Se non avrò un altro imprevisto urgente, mi auguro di no, perché non è stato un imprevisto urgente piacevole. Quindi il sindaco è un essere umano, può anche avere una mattina un imprevisto... Poi non capisco perché non l'hanno fatto lo stesso il Consiglio Comunale. Noi eravamo rappresentati ai massimi livelli, c'era il vice sindaco, c'erano gli assessori, c'era sia presente, c'erano i dirigenti. Forse volevano fare campagna elettorale, se sono dispiaciuti per questa, addirittura mi sono venuti a cercare. Forse facendo prima andata a Lasciarelli, chi l'ha visto? Almeno mettevamo un po' di emozione. Dove è il sindaco? Chi l'ha visto? Dove sta? È nascosto. Insomma, ridicoli. Soprattutto perché sono presentati con un giornalista al seguito e quindi la dice lunga di come sono dispiaciuti che non si sia tenuta la monotematica. La monotematica noi la terremo e dimostreremo all'opposizione la serietà con cui lavoriamo. Io credo che ieri si poteva tenere il Consiglio Comunale. Quindi l'opposizione ha dato la prova di pretestuosità, che è quello che ormai contraddistingue l'opposizione in Consiglio Comunale negli ultimi tempi. Non è più un'opposizione costruttiva. Poi tra l'altro aggiungo, se posso permettermi, che ormai abbiamo iniziato una campagna elettorale che finirà a maggio del 2021. Quindi ormai tutto questo politicamente droga. Non è vero che c'è un interesse per la città. Interesse per la città molti dell'opposizione non l'hanno mai avuto perché l'abbiamo visto in questi anni quando hanno abbandonato l'Aule nel momento in cui si decideva sugli interessi della città. Quindi noi andremo là, discuteremo, ci sentiremo ovviamente come è giusto che sia in un consenso democratico, le opinioni differenti, ma non credo di illudermi adesso che ci sia da parte loro un ragionamento costruttivo nell'interesse per la città. Questo non ci credo.